Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming, sono tornato. È proprio il caso di dirlo, bentrovati su Crystal Cross Gaming, perché era un po' che non ci vedevamo, vero? Praticamente una decina di giorni, tolto quel paio di video che sono riuscito a fare e quei post che ho messo nella tab community, su Telegram, su Facebook, su Instagram, eccetera. Come vedete ancora non sto proprio benissimo, ancora un pochettino di tosse è rimasta, però fisicamente sto bene e finalmente anche il PC è a posto e vedete qua la bella bestiola in tutto il suo splendore che mi sta dando, devo dire, delle grandi soddisfazioni, non pensavo funzionasse così bene. Bene ragazzi, questo è un vlog piccolissimo di veramente pochi minuti per dirvi semplicemente che sono tornato e ricominciamo l'attività del canale, ok? Con l'occasione voglio dirvi un paio di cosette. Ricominceranno le serie normalmente sul canale, ricomincerà anche con molta continuità, ve lo prometto, la serie proviamolo con un video al giorno tolta la domenica o super giù, insomma qualcosa del genere, ma ci sarà anche qualche extra, ok? Nei prossimi giorni, anche nel prossimo periodo, insomma. Non so dirvi una data precisa, ma troverete dei contenuti extra. Di che tipo? Niente che io non abbia già fatto sul canale, perlomeno per adesso, per il futuro si vedrà, ho delle idee come già vi ho anticipato, però ci saranno numerose collaborazioni, ok? Sto già parlando con un po' di youtuber vari per fare qualche video insieme di varia natura, che può essere tipo gameplay, che può essere tipo discussione, che può essere tipo interazioni di vario genere, insomma ci sono tante cose in ballo con diversi youtuber e spero ragazzi che tutto questo vi piaccia perché c'è abbastanza da lavorare per farlo. Ci sarà anche ragazzi qualche multiplayer in più, ok? Non solo con altri youtuber, anche dei multiplayer in locale un pochettino più semplici, cose che sul canale una volta facevo più spesso e che mi piacerebbe ricominciare a fare con più continuità, ok? Ogni tanto se non altro non proprio con cadenza settimanale, precisa eccetera, anche perché non posso permettermelo, però mi piacerebbe portare dei multiplayer. Poi ci saranno anche dei vlog speciali, ricomincerà il vlog domenicale, ovviamente questo è un piccolo extra per salutarci perché sono tornato in attività, ricomincerà il vlog domenicale ma aspettatevi anche qualche vlog extra speciale perché ho deciso finalmente di fare qualche video che avevo in mente già da molto tempo, come per esempio mostrarvi la postazione vera e propria nel dettaglio, mostrarvi tutto quello che ho e anche un altro video in cui vi mostro esattamente come registro i video perché è una procedura un pochettino particolare che mi sono fatto io, no? E che sicuramente qualcun altro sta utilizzando con successo ma che di fatto se l'ho vista usare, l'ho vista usare da pochissime persone, quindi potrebbe essere interessante sia per vedere un pochettino quello che faccio ma anche per altri youtuber, per chi fa video come me, per vedere un po' come si può fare a registrare in maniera qualitativamente migliore, veloce e con tante cose connesse insieme. Ok ragazzi? Quindi questo è l'insieme di contenuti. Come ultima cosa voglio dirvi che oggi ragazzi le cose partono a mille. Ci sarà il continuo di una serie che già stiamo facendo e ci saranno anche due video diversi di due giochi nuovi. Uno mica tanto, l'ho già portato sul canale ma è un DLC, ok? E un gioco nuovissimo invece. Mi sono dato tanto da fare ieri per portarvi questi contenuti e grazie a Dio sono riuscito a fare tutto quello che mi ero ripromesso di fare all'incirca. Quindi ragazzi oggi si ricomincia col botto con tre video diversi escluso questo e da domani ragazzi si partirà con ancora di più. Ricomincerà la serie proviamolo e forse devo ancora fare un attimo di calcoli con i tempi dei giochi che usciranno a breve nei prossimi giorni ma forse vi porto anche una quarta serie perché mi sono detto cavolo sono stato fermo tanto tempo, tante cose sono rimaste indietro, dannazione voglio portare tanti tanti contenuti sul canale. Ve l'avevo promesso, mi sono ripromesso di farlo e porca miseria lo farò. Quindi c'è la serie possibilità che da domani vedrete non solo questi tre video ma anche una quarta serie in più. Devo decidere ancora quale e devo decidere ancora i tempi però c'è la serie possibilità che la vedrete. D'accordo ragazzi? Quindi ricapitolando ricomincia la programmazione del canale come siete abituati a vederla con qualche chicca in più, con più collaborazioni, con più partite in multiplayer non solo in remoto ma anche in locale con più vlog speciali e con tante piccole chicche oltretutto con qualche idea nel futuro che sarà veramente importante se riesco ad attrezzarmi. D'accordo ragazzi? Dai io direi che per oggi è tutto sono felice di risentirvi, sono felice di fare questo piccolo vlog di ritorno in attività spero ragazzi che vi piacciono i contenuti che ritroverete sul canale volevo solo farvi un saluto in buona sostanza. D'accordo? Bene, per oggi è tutto gente mi raccomando i contenuti del canale di oggi, subito dopo l'uscita di questo video qua ci saranno tante belle cose tre video uno in fila all'altro e per il resto ragazzi ci vediamo sul canale come sempre e nella community mi raccomando iscrivetevi anche al canale telegram se non siete ancora iscritti trovate tutti i link dei miei social in generale quindi anche facebook, instagram eccetera tutto quanto in descrizione mi raccomando iscrivetevi così rimaniamo in contatto anche in maniera un pochettino più incisiva durante la giornata e durante la settimana e per il resto ragazzi grazie di seguirmi come sempre e sono molto felice di essere tornato d'accordo ragazzi? Quindi come sempre se ancora non siete iscritti a questo punto iscrivetevi mi raccomando al canale lasciate un bel like a questo videozzo, questo piccolo vlog se vi è piaciuto e come sempre in descrizione trovate tutti i link ai miei social come vi ho detto tutti i link per supportare il canale d'accordo ragazzi? Ci vediamo sul canale fra un po' con un sacco di bei video e un sacco di bei video nei giorni futuri ok? A dopo